La cosa che assolutamente colpisce all'arrivo è questa bellezza di colori, quest'acqua cristallina, le spiagge bianchissime e il clima perfetto. Ha un insieme, una varietà di possibilità di trascorrere la vacanza che uno se lo può proprio costruire su misura. Attraversare le isole, poter fare snorkeling, vedere questi fondali pieni di pesci, colori, sicuramente è una parte che rimarrà nel cuore in queste Seychelles. Mi è piaciuto Seyvillas perché dava la possibilità comunque di scegliere molto agevolmente le strutture perché sul sito c'erano tutte le informazioni e poi comunque anche il servizio ottimo perché sono sempre tutti disponibili a dare risposte e da suggerire agli amici. Seychelles, Seychelles, Seychelles.